ciao amici ciao amiche benvenuti in un nuovo blog allora notizia molto importante molto probabilmente da come avete sentito mia moglie vuole allungare io sono pienamente d'accordo ma forse se tutto va bene o in serbo ho una sorpresa per lei però si prolunga ma non penso qua se riesco gli faccio una sorpresa la porto in un altro posto tranquillo beh è bellissimo il posto è perché per carità io non descrivo in nessun posto stati sintonizzati per vedere se è fattibile e tutto quanto ragazzi gli occhi lucidi perché sono stanchissimo preso troppo sole e niente comunque sorpresa per mia moglie speriamo di riuscire a farcela ci vediamo domani con un prossimo blog flash ciao a tutti